Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizione Italia-Ucraina, partita che si giocherà domani a Genova Allora, questa partita secondo me è un po' un wake up per quello che è successo La nostra ultima partita è stata contro il Portogallo e abbiamo perso 1-0 a Lisbona Quindi speriamo di vincere questa partita, è un amichevole, non è Nations League, non è niente È un amichevole contro l'Ucraina L'Ucraina secondo me non è nessuno, quindi abbiamo una chance grandissima di vincere questa partita Secondo me l'Italia farà benissimo e vince la partita Comunque io penso che finisca 3-1 Italia, penso che segni prima l'Ucraina Poi segni l'Italia con insigne Belotti e Palotelli Comunque scrivete qua giù i vostri commenti della partita Secondo me non so chi gioca perché le squadre non sono ancora state messe online Speriamo che gioca a Palotelli ma può succedere di tutto Comunque il video si conclude qui, cazzo mio guardato Spero che l'Italia vinca 3-1 Cosa molto probabile ma potremmo anche perdere o pareggiare Conoscendoci contro la Svezia Comunque il video si conclude qui, cazzo mio guardato Porto Italia, ciao